Un evento che si è tenuto a ottobre 2010 qui a Gorizia, un evento di writing e di musica rap che si è tenuto sotto il cavalcavia qui dei ragazzi del Ponte 99 ed è stata un po' la possibilità dei ragazzi che fanno questo tipo di arte, quindi il writing, di esprimersi liberamente. E poi c'era un contest di skate anche. Noi raccogliamo qui un po' i pannelli che sono stati realizzati durante quell'evento e vengono esposti qui nello spazio espositivo del Ponte Giovani che è stato allestito ad hoc proprio per questo evento.